...ma c'è non lo vai dire, Max, che è regolipendiente, che vai dire un'altra manifestazione anteposnante che deve evitare per un altro nome da esizio come vuole indicare. Ma si può neerare che toglieri da macchina. Ma non ho visto un mio storico. Sì, non è vero. Signora Omaro, lei fa un'evolto, però sua rappresentante è jovena, signora mi papia.